I balestrieri delle contrade di San Paolino, primi classificati alla quarta di sfida della Libertà. La gara che a causa del maltempo si è tenuta presso la pista al coperto dell'Atletica Virtus Lucca, ha visto tornare a sfidarsi, dopo lo stop forzato di due anni a causa della pandemia, 12 squadre di balestrieri provenienti da tutta Italia. Le compagnie si sono sfidate prima in una gara a squadro e su bersaglio a 5, poi in una individuale su bersaglio singolo. La squadra Lucca si è classificata al primo posto con 143 punti nella prima competizione, primo posto anche nella gara individuale in Corneolo con Gianluca Bertolucci di Contrade e San Paolino primo et meliore.